Come è un'associazione che si occupa di connettere start-up cinesi e ecosistema cinese legato al mondo dello start-up e l'ecosistema italiano in seconda fase, quello sud-europeo? In che modo? Su due piani principali, uno lo scambio di competenze e un altro lo scambio di interessi tra fondi. Quindi riuscire avvalendoci anche delle nuove normative italiane ad attrarre fondi dell'ecosistema start-up italiano dal ecosistema cinese. È una questione cruciale per il nostro sistema italiano in quanto è uno dei sistemi più sottosviluppati dal punto di vista economico nel settore delle start-up. La Cina per noi è un'opportunità verso questa direzione. L'idea è quella di, tramite questi eventi, riuscire a coinvolgere più player cinesi all'interno delle start-up italiane. Al momento ci sono delle partnership in avvio, alcuni con Maker China, altre con head offices di Baidu, ma tuttavia stiamo ancora arrivando alla finalizzazione, quindi speriamo che a breve riusciremo a creare la sigla start-up.